Siamo qui per dirvi che questo rapporto fra noi e FAC proseguirà anche per l'anno prossimo. Siamo molto contenti perché FAC è una realtà, un'azienda di eccellenza del territorio. Ho ripetuto più volte che ci piace avere vicino le grandi eccellenze e il nostro obiettivo è quello di diventare nel tempo anche noi un modello organizzativo e sportivo di eccellenza. Ci sono due parole che penso chiave per esprimere o rappresentare il significato della prosecuzione e queste sono contentezza da una parte e fiducia dall'altra. Partecipare al viaggio in Serie A di questa squadra ci permette di svolgere appieno delle necessità di diffusione del marchio, è inutile negarlo, in tutta Italia attraverso la televisione, la carta stampata e attraverso lo stadio perché noi lo usiamo moltissimo per coinvolgere tanti clienti e quindi la contentezza di poter completare e continuare questo esercizio di diffusione del marchio FAC in tutta Italia. La seconda parola che vorrei sottolineare è quella della fiducia, siamo alla pagina numero 3 del nostro viaggio insieme, il terzo anno ovvero. Noi siamo fiduciosi che il progetto della proprietà, una nuova proprietà di Bologna e quindi partire da Saputo e tutti i dirigenti che costituiscono oggi la società, Claudio Fianucci e tutti gli altri, siamo fiduciosi che questo progetto sia un progetto giusto, corretto, fondato su valori corretti, che noi condividiamo, integrità, impegno, tenacia e notevole ricorso ai giovani. È un accordo anche molto importante per la società per diversi punti, uno perché si tratta dell'accordo commerciale più importante della società, un accordo che ogni anno è stato in crescita, che anche l'anno prossimo prevede una crescita, e l'altro aspetto importante è anche la tempistica, non solo per un messaggio in questo momento di dire noi siamo vicini alla società, ma rinnovare il contratto così presto vuol dire avere fiducia nella società e credere in quello che stiamo facendo. Questo accordo, questa fiducia dimostra che FAC, ma anche le altre parte, credono in quello che stiamo facendo, credono in quel nuovo percorso, credono nella nostra filosofia, però dimostra anche che loro hanno un ritorno di investimento, dell'investimento che fanno. A noi fa molto piacere che le aziende, oggi del territorio, ma anche alcune aziende nazionali, si siano avvicinate e stiano facendo un percorso insieme a noi, condividendo non solo quelli che sono gli aspetti sportivi, ma anche una cosa a cui noi teniamo molto, i comportamenti, i valori etici del club, la trasparenza, la voglia di rinnovare e cambiare un sistema calcio che ha bisogno di essere modernizzato. Credo che questa sia una buona risposta e che ci stimola e ci aiuta ad andare avanti in questa direzione.